La tecnologia predittore di codice a barre può essere applicata su vari oggetti che diventeranno scanner. Faremo un test per una partita a Texas Hold'em da 7 giocatori e quello che vogliamo sapere sono i primi 3 mani vincenti, prima che le carte vengano distribuite. 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 6 Qui useremo una chiave per auto Audi come scanner. Ricorda che qualsiasi oggetto personale può essere trasformato in uno scanner di codice a barre. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web. Grazie a tutti